30 nuovi vigili stagionali, nuovi mezzi in arrivo per la Polizia Municipale, stagione estiva che entra nel vivo e amministrazione comunale che vuole seguire la città con un occhio ancora più attento. Certamente sì, è stata questa la motivazione per la quale ci siamo messi al lavoro. Abbiamo avviato un concorso per la prima volta come Comune di Pescara con una gradatoria per 30 nuovi vigili stagionali ma con 200 idonei, dando possibilità anche ad altri comuni che vogliono prelevare la nostra gradatoria. Credo che sia questo importante, una risposta puntuale e concreta. L'anno scorso abbiamo prelevato 15 unità, quest'anno 30 unità raddoppiando il numero. Questo dimostra come l'amministrazione comunale di Pescara sia attenta alle dinamiche della propria città. L'estate ormai come lei ha sostenuto e siamo dentro l'estate, nel pieno estate, nella piena estate per cui è giusto che i nuovi vigili diano un contributo di aiuto alla cittadinanza tutta, voglio dire nel rispetto delle regole e non solo delle regole riferite alla viabilità ma le regole in generale per il decoro e quant'altro di cui la Polizia Municipale anche si occupa. Arrivano anche nuovi mezzi? Presenteremo quattro nuove autovetture, una Giulietta, due Punto e una Panda. Sono macchine di servizio, quindi riconoscibili attraverso la scritta della Polizia Municipale e non macchine Civetta e quindi è un servizio ulteriore che noi daremo dando la possibilità ai nuovi anche di poter muoversi in tranquillità e serenità attraverso anche questi nuovi mezzi. Saranno quattro i mesi, il mese di agosto, il mese di settembre e il mese di ottobre, poi ci sarà un'interruzione e si ripartirà dal primo di dicembre fino al 31 di dicembre. C'è una variante, nel senso se riusciremo daremo eventualmente anche la possibilità del quinto mese considerando il mese di novembre. Grazie. Grazie.